Conto alla rovescia per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre per il rinnovo del Parlamento italiano e quindi dei rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In Sicilia si voterà anche per l'elezione del Presidente della Regione per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Le operazioni di voto si svolgeranno tra le 7 e le 23 di domenica. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26 settembre a partire dalle 14. Il sistema di voto per le elezioni politiche prevede un misto tra proporzionale e maggioritario. L'elettore avrà una scheda per la Camera di colore rosa e una per il Senato di colore giallo. Sulle schede sono indicati i nomi dei candidati al collegio maggioritario uninominale aggregati per coalizioni. Sotto ciascun nome sono stampati i simboli dei partiti che lo appoggiano fino a quattro candidati per il collegio proporzionale plurinominale. Il cittadino può votare soltanto per l'uninominale se lo desidera e in questo caso gli basterà tracciare una croce sul nome del candidato uninominale prescelto. Se vuole votare anche per il plurinominale traccerà una croce anche sul simbolo del partito preferito. Tracciando la croce soltanto sul simbolo del partito il voto si trasferisce automaticamente anche al candidato per l'uninominale. Non è possibile esercitare il voto disgiunto, non si può quindi votare per un candidato all'uninominale e contemporaneamente per un partito che non appoggia quel candidato ma ne appoggia un altro. In questo caso la scheda verrà considerata nulla. Per quanto riguarda le elezioni regionali la scheda è unica, l'elettore dispone di due voti e può esercitare il voto disgiunto. Un voto è per la scelta della lista regionale il cui capolista è candidato alla carica di presidente della regione e un voto per la scelta della lista provinciale e in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale. Nel caso in cui non venga espresso alcun voto per una delle liste regionali il voto validamente espresso per una lista provinciale si estende automaticamente anche alla lista regionale collegata. Essendo previsto il voto disgiunto l'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro. Quindi è possibile tecnicamente esprimere una preferenza per uno dei candidati a ricoprire i 70 posti dell'ARS, una preferenza per un candidato alla presidenza della regione appartementa a uno schieramento politico differente. Fino a domenica prossima gli uffici elettorali comunali resteranno aperti dalle 9 alle 19 per consentire ai cittadini di richiedere la tessera elettorale qualora l'abbiano smarrita o debbano rinnovarla. Entro il 22 settembre gli elettori detenuti o ricoverati nei luoghi di cura dovranno far pervenire al sindaco del comune di residenza la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione o di degenza.